benvenuti e bentornati in questo nuovo video oggi cosa voglio fare non so se esiste se già l'hanno fatta però l'ho pensato stanotte ero in bagno l'ho pensato e quindi lo voglio fare ora stiamo andando al supermercato a comprare le cose che ci occorrono un impasto della focaccia con dentro lo champagne e sopra metterci il cagale e vabbè senza che un po' prolunghiamo il discorso dell'introduzione eccetera che nessuno ha interesse tutti salteranno andiamo direttamente al supermercato però prima della farina ovviamente dobbiamo scegliere uno champagne vediamo che prendere il champagne preso dobbiamo prendere il caviale caviale preso ma andiamo a prendere la farina vediamo in carico perché questi carrelli si devono portare tutto all'incontrario telecamera per non cadere che dici un pacco va bene no? penso di sì e vai a prendere champagne, caviale, farina, lievito vuoi saccare? no voglio il caviale ovvio e tu me l'hai promessa questo lo vuoi? no voglio il caviale vuoi il caviale? e allora andiamo a casa a farti la focaccia con il caviale mmmm è bella abbiamo aprito tutto e adesso è il momento di andare a pagare money Sara paghi tu no no io voglio il caviale ma che hai compratto? il pandorino mi ha detto che non volevi nulla e il colino come me il pandorino sì, quindi vende caviale comunque caviale soprattutto caviale sei contenta di questa cosa? guarda com'è bella il Natale mamma mia mi vedrà che passano le settimane deve mettere sotto all'albero sentito faccio acqua la calda il caviale mo paga io me ne pago ragenziano, tutto a posto? tutto a posto comprate tutto? pure il pandorino quello è mio non toccarlo andiamo a casa che devo andare a ripassare andiamo andiamo ok Sara siamo arrivati a casa organizziamoci per fare il video abbiamo lo champagne abbiamo la farina abbiamo il levito abbiamo il caviale abbiamo un'altra cosa che non so cos'è non vogliamo organizzare nulla io mi accomodo e mangio te lo vedi tu voglio il caviale faccio tutto da solo? tutto da solo caviale e champagne e quindi vieni con me mi sembra un bilancio ci vogliono 500 grammi di farina e la stiamo pesando allora ma la parte più complicata è stappare la bottiglia di champagne a lei non è la voca non si che fai? è mettere il levito come lo faccio? mettiamo il levito no è parato da chibirino sembra la da chibirino sembra la da chibirino sembra la da chibirino è brutta eh è normale rimane così si copre e lo riprendiamo dopo e nel frattempo Sara vieni con me sono qui tieni tieni tu mmm si impasta impasta alla salute già il secondo però voglio il caviale vuoi pure il caviale te l'ho già detto sarà di una pellicola a casa? certo ma dai giuro che sono proprio curiosa di assaggiare si eh? si però nel frattempo un altro calice di vino certo alla salute sempre aspetta dopo riposato togliamo la pellicola e la andiamo a stendere te la faccio acqua olio mescoliamo e va sulla pizza va in forno e va in forno e va in forno dai capo per quanti minuti? eh quanti minuti? la pizza è pronta la pizza adesso è pronta wow è champagne è spumeggiante è spumeggiante scotta? nooo cosa metti? il caviale wooo finalmente 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 per la mia gioia poco poco caviale e champagne se il video vi è piaciuto lascia un like un commento se non siete iscritti al canale iscriviti e ci vediamo in un prossimo video no no ho 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 Grazie.